Trieste Espresso 2018, siamo allo stand della Axor SRL, un'azienda data nel 1983 che si è sviluppata tantissimo producendo prodotti detergenti industriali, professionali. Siamo in compagnia di Massimiliano Coltellazzi, il suo responsabile vendite per l'Italia nella divisione Caffè. Max, bentornato. Buongiorno. E a te voglio chiedere intanto cosa presentate qui a Trieste Espresso 2018. Quest'anno abbiamo portato a Trieste Espresso tutta la nostra linea riguardante all'oreca professionale, quindi alla pulizia e alla cura della macchina da caffè e anche del macinadosatore. Abbiamo portato quattro prodotti per noi che sono di punta riguardanti all'utente finale perché riteniamo che la pulizia della macchina dia una qualità maggiore al cliente che quotidianamente viene a trovarci a prendere un caffè o un cappuccino. Abbiamo portato la linea Grinco che è una polvere granulare che serve per pulire le macchine del macinadosatore e mantenere pulito quello che è a contatto col chicco di caffè. Poi abbiamo portato Sunny Milk che è un detergente adatto per la pulizia della lancia a vapore ma specialmente all'interno dove elimina tutti i batteri negativi che potrebbero influire nell'erogazione del latte, del cappuccino, la preparazione del cappuccino. Poi il Decaf che è la polvere granulare che serve per la pulizia quotidiana dei gruppi portafiltri e del circuito termosifonico della macchina da caffè dove va a sgrassare, eliminare il rancido e anche quant'altro che sia particelle negative nell'utilizzo della macchina da caffè. Poi abbiamo portato Waterlix Bags che è una bustina con dei sali minerali per depurare l'acqua all'interno dei contenitori dell'acqua per le macchine da caffè perché è molto importante la depurazione. Poi abbiamo portato anche il prodotto Rio che è per la decalcificazione liquida delle macchine da caffè per pulire i circuiti termosifonici sempre per avere cura del prodotto finito. Infine abbiamo portato la capsula che serve per pulire l'erogazione delle macchinette per l'uso domestico perché è molto importante. A volte capita che l'utente finale lascia la capsula all'interno della macchina la spegne e il rancido diventa vecchia la capsula quindi il rancido aggredisce le parti interne della macchina e chiaramente successivamente l'utente non beve un buon caffè quindi è molto importante questa, la pulizia delle macchine a caffè in tutte le versioni perché è molto importante l'educazione tecnica per avere ogni giorno un buon risultato. Diciamo che il vostro catalogo non si ferma a questi prodotti quelli che hai appena presentato dedicati al caffè avete diverse altre divisioni quella della Coffee Machine Cleaning Products è quella destinata specificamente al mondo del caffè Trieste Espresso d'altra parte è l'appuntamento giusto per poter incontrare tutti i player che ricercano prodotti qualificati per la risoluzione di questi problemi. Max, per tutti quelli che desiderano che sono d'altra parte desiderano saperne di più entrare in contatto con voi e o avere maggiori informazioni senza alcun impegno qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? Axor, chiocciola, axor.eu e dunque immediatamente dopo andrete a contattarli su Pongo per poter recuperare maggiori informazioni e fare un'offerta specifica, dedicata. In questo momento, inoltre, al di là della nostra esperienza che da 40 anni ormai abbiamo bisogno di tutte le opinioni e supporto da tutto il cliente finale perché è chiaro che un'azienda quando inizia con un prodotto nuovo ha delle idee però anche pur vero che deve tener conto di quello che vuole il cliente. Massimiliano, grazie. Salute a tutti loro. Ciao e uniteci a trovare siamo sempre disponibili per aiutarvi. Noi vi invitiamo a visitare il loro sito per avere maggiori informazioni non solo per ciò che concerne la Coffee Products Division ma anche e soprattutto tutti i prodotti destinati a risolvere problemi di pulizia, igiene e sicurezza in ambito alimentare, in ambito ORECA. Amici, noi continuiamo non andate via abbiamo ancora tantissimo da mostrarvi qui a Trieste Espresso 2018 Ciao a tutti!